che ci fai da queste parti non si tratta di una minaccia sia ben chiaro è un semplice avvertimento che dice niente a questa faccia no credi che anche qui ci sia qualcuno che ci sta spiando non credo io ti dico di sì cos'è che te lo fa dire lo sento un momento per favore vorrei dirti una cosa com'è questo film non conosco ancora la storia per questo che non t'hanno parlato prima so che il personaggio principale una donna scusami come fai a sapere che è una donna se non conosceva un sentimento un sentimento che ha forme femminili non so come spiegarti ho sentito dire che tu sei un intellettuale marcio di quelli con i quali è impossibile discutere ma io non sono un intellettuale né marcio né salvo me l'hanno detto in due deve essere vero un'altra storia d'amore non ha detto mi domando che senso al giorno d'oggi una storia d'amore in questo sfacero mi piace masturbarmi se lo fa un altro è meglio più di tutti se è una donna come mai con una donna è tutto molto più morbido che una donna lo fa per farmi piacere mentre un uomo lo fa più per se stesso lo fa vedere che è virile nick dove sei sono qui non sparire ti prego grazie a tutti